In Italia il contagio continua a correre. Ieri si sono sfiorati 25 mila nuovi casi e anche dal Molise non arrivano buone notizie sul fronte dei contagi. Intanto c'è da registrare un'altra vittima deciduta ieri sera al Cardarelli. Si tratta di un 85enne di Colle d'Anchise che era ricoverato nel reparto di malattie infettive. Ma a preoccupare in queste ore in Molise soprattutto l'impennata di contagi nelle case di riposo che sono almeno un centinaio in totale. Dopo le positività riscontrate nella struttura Oratino, quelle ai Cerni, è mattinata il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente ha comunicato che nella residenza per anziani Samnium al momento sono risultate positive almeno 20 persone tra gli ospiti e gli operatori e tutti sono asintomatici. La direzione della residenza Samnium ha spiegato già da ieri sera ha messo in atto tutte le misure necessarie per contenere il rischio di contagio dal virus sia all'interno della struttura che è per la cittadinanza di Vinchiaturo. L'ASREM, prontamente informata, si è attivata per gli adempimenti necessari, ha detto. Il sindaco ha già firmato l'ordinanza cautelativa che dispone l'immediato divieto di accesso e di uscita dalla residenza per anziani e impone il rispetto rigoroso di tutte le norme di contrasto alla diffusione del Covid. Ha precisato che tra gli ospiti della casa di riposo risultati positivi al tampone non ci sarebbero coloro che abitualmente frequentano il centro abitato e quindi risultano negativi. Da almeno otto giorni, ha aggiunto, le visite presso la residenza per anziani erano sospese e in precedenza venivano effettuate a distanza e con i presidi di sicurezza e di distanziamento. A Vinchiaturo, ha concluso il sindaco Valente, al momento sono tre residenti positivi tutti asintomatici e in isolamento insieme ai propri familiari. Nessuno di loro o dei conviventi a bambini o ragazzi che frequentano il nostro istituto scolastico. Per quanto riguarda i dati relativi all'ultimo bollettino dell'ASREM diffuso ieri, si registrano 95 positivi sui 590 tamponi processati, 57 solo a Disernia, di cui 47 legati a cluster della casa di riposo, 10 ad un altro cluster noto. La situazione negli altri comuni. Sette casi a Sant'Agapito, 5 a Larino, 4 a Colli a Volturno, 3 a Cantalupo, Boiano, 2 a Campobasso e Vinchiaturo, 1 a Carovilli, Castelpetroso, Ferrazzano, Fornelli, Gambatesa, Monte Roluni, Petto Ranello, Pietra Abbondante, Porto Cannone, Sant'Elia Pianisi, Santa Maria del Molise e Venafro. Due ricoveri in malattie infettive, un paziente dimesso ed uno guarito. Il totale degli attualmente positivi sale a 803. I pazienti ricoverati sono 23, di cui 19 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva. I guariti sono 664, mentre le vittime dall'inizio della pandemia sono 32.